Tutti conoscono Piazza dei Miracoli a Pisa. La torre, il Duomo e il bellissimo Battistero. Ma i miracoli non sono solo questi tre. C'è un altro miracolo ed è quest'edificio qua giù in fondo, tra il Duomo e il Battistero. Il Camposanto. E nel Camposanto di Pisa c'è sepolto un grandissimo. Guardate che bello il Camposanto di Pisa. In terra ci sono decine di lapidi dove le persone sono state sepolte. Guardate com'è bello, com'è immenso. Ci sono le catene che i genovesi presero dal Porto Pisano e donarono ai fiorentini e i fiorentini le tenono esposte per un sacco di anni. Ci sono i meravigliosi affreschi di Benozzo Gozzoli sulla parete. Guardate che immensità. Ci sono gli affreschi immensi di buffo al macco con l'inferno e il paradiso di dantesca memoria. Ci sono i teschi come se fossimo in un film di pirati. E alla fine c'è lui. Lui. Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci. Come chi è Leonardo Fibonacci? Non è possibile non lo conosciare. Ma è uno dei più grandi matematici della nostra storia. Due fondamentalmente sono le cose per cui viene ricordato. La prima è che grazie a lui furono introdotti i numeri arabi. Quelli con 1, 2, 3, 4, 5. Non più i numeri latini con i quali era molto difficile fare i conti. E l'altro per avere introdotto la famosissima serie di Fibonacci. Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. E così via. In pratica ogni numero della serie sommato a quello successivo dà il numero successivo ancora. Quindi 1 più 2 è 3, 3 più 2 è 5, 5 più 3 è 8. E così via. Ora questa cosa qua a voi sembrerà una cavolatina. Ma questa serie di numeri si trovano in tantissime forme nella nostra vita. In botanica, nel corpo umano, nelle conchiglie, nelle api. Addirittura sembra che sia la formula dal quale si ricava la sezione aurea che è alla base di tanti monumenti dell'arte. Si trovano addirittura nella musica, nell'informatica, nell'elettronica. La nostra vita sarebbe molto diversa se non fosse esistito quell'omino laggiù. Un pisano di nome Leonardo Fibonacci. A proposito, lo sapete chi ha dato il nome a questa piazza come Piazza dei Miracoli? L'immenso Gabriele D'Annunzio. Ciao Pisa! Sbam!